buongiorno ragazzi bentornati al canale come sempre giù di muscoli vita iniziamo la giornata è mezzogiorno gli altri stanno ancora dormendo dato che ieri abbiamo fatto un seratone comunque io mi sono svegliato che voglio andare in palestra come prima cosa sto bevendo un litro e mezzo di acqua perché lo sapete per minimizzare i danni faccio il digiuno intermittente la mattina questo mi permette quando usciamo la sera di poter godermi un po di più sia il cibo che semplicemente la serata quindi magari bere qualche drink e lo faccio saltando la colazione quindi ancora non ho mangiato niente mi sto bevendo un po d'acqua perché ottimo idratarsi prima di andare in palestra poi andremo a svegliare simon insieme e andremo a fare un upper body workout niente di troppo intenso ma semplicemente per fare qualcosa questo è il mio consiglio anche quando state magari in vacanza non dovete seguire il vostro piano non dovete andare in palestra giorno dopo giorno ma una volta ogni due giorni fare un full body oppure un upper body secondo me va benissimo per mantenere i vostri progressi detto questo andiamo a svegliare simon simon non avevamo detto che andavamo in palestra non si va in palestra niente come vedete qua dovrò fare un po di lavoro per svegliare il semi ma vedrete che ci vediamo solito in palestra no 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 si eh ragazzi ce l'ho finalmente fatta svegliare il semi ora andiamo a prenderci una monster e andiamo in palestra Stiamo un po' discutendo sul workout da fare Penso che faremo un upper body Abbiamo veramente pochissimo tempo C'è il sole pazzesco a Barcellona Abbiamo poco poco tempo Mi sa che molto probabilmente Dovremmo fare qualcosa di diverso Magari tanto volume Un po' meno intensità Ma così ci viene un buon pump Poi andremo in spiaggia a ribeccarci con Jovi e Fabio Andiamo a prendere la monstra intanto Pronto? Insomma pronto ragazzi Spacchiamo Sto a seguire il vostro muscolo a vita oggi Quindi sono un po' eccitato Let's go And I lost to your eyes Never to your fire Tell me where you're going Tell me where you're out tonight I go all laser lights When you're by my side Everything I do know Tell me if you're out tonight Oh I've been dancing Oh no, oh no As long as you're looking I don't feel alone This music just ain't going on, going on But as long as you're looking And I'm not going home Am I going home? I'm not going home I'm not going home Even when the light's down Even when the light's down Tell me if you're looking out I go all laser lights If you come around Everything I do now Send me if you're out tonight You know I'm up in the air Only firefly I know, oh no You're going somewhere Don't, oh no Don't leave me there I know I've been dancing Oh no, oh no As long as you're looking I don't feel alone This music just ain't going on, going on But as long as you're looking I'm not going home And I'm not going home Am I going home? Am I going home? Am I going home? Ehm... Ragazzi abbiamo appena finito quel workout che avete appena visto Spero che vi sia piaciuto l'edit, mi raccomando. Buttateci un like, lasciatemi un commento Comunque questo è quello che fanno gli youtuber Prendo i migliori amici a filmare E lo stiamo uploadando Il video proprio per voi E purtroppo la palestra è chiusa, abbiamo fatto un workout velocissimo Solamente 30 minuti Ma arrivaremo qua per un'altra mezz'oretta, forse chiusi fuori Speriamo che non chiudono il wifi così mettiamo il video su per voi Ragazzi il workout è stato Molto rapido però molto produttivo Come dice Simon, comunque stiamo ancora Uploadando il video lì come vedete Speriamo di riuscirci Intanto mi sto mangiando una di queste barrette proteiche 25 grammi di whey protein Ho visto dietro 30 grammi di carboidrati 10 grammi di grassi Quindi non male, non macronutrienti ottimi Però un minimo di proteine Poi purtroppo non abbiamo avuto il tempo di lavarci o niente Quindi andremo in spiaggia E ci facciamo un bagno al mare Ci becchiamo con Pablo e Simon Continuiamo Com'è lo shake? Ci sta? Review E' buono Cioccolato direi abbastanza vinto Però c'è un botto di proteine che serve Mi da un po' di energia prima di andare in spiaggia E un po' di carboidrati Se vedete ragazzi lui era magrissimo E hai fatto un periodo di massa e stai continuando Ovviamente un po' di ciccia la metti Ma cioè Tu avevi i geni etiopi E guarda lì che hai Grande Sam I'm proud Ragazzi proviamo com'è Com'è? Buono? Dolce Cosa? Dolce? Buono Dai Ragazzi che stiamo a fa? Allora stiamo praticamente La palestra è chiusa Chiuso 10 minuti fa Noi siamo seduti qua fuori Prima di andare in spiaggia Vogliamo veramente mettere il video per voi Mancano 18 minuti E niente Questa è la vita di un youtuber Ti imponi degli obiettivi Purtroppo Imponi anche questa cosa sui tuoi amici Però se ti supportano Quindi trovate degli amici Che vi supportano in tutto quello che fate Noi speriamo qua Di appoggarlo Fuori dalla palestra Seduti su un gradino E poi ci invitiamo in spiaggia Ragazzi Sta elaborando Appena questa arriva al 100% Io ora clicco pubblica Corso del sabbataggio Completato Il video è live Possiamo andare Sammy Andiamo Alla playa baby Ah ragazzi Noi siamo qua In spiaggia Con il Sammy Siamo appena fatti un tuffo Nel mare Primo bagno della stagione Iniziando benissimo E niente C'è un sacco di gente sulla spiaggia Il sole purtroppo non è così forte Ma mi sa che fra un attimo Andiamo a giocare Chiamo a fare un po' di racchettoni Comunque bellissimo Bellissimo Il bacerone lo distribuisce sempre Ci vediamo Comunque bellissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una pasta qui di te, Vanni. Pasta, un po' di proteine grassi, tante uova, ci facciamo una super carbonara. Vi faccio vedere come esce. Ecco qua, sta carbonara pazzesca fatta da Sir Vanni. Quindi carbonara, carboidrati, un po' di grassi, più buona anche macronutriente dense e una raddler. Muscoli a vita che dormi, wow. E ragazzi, come avete visto dalla clip di Simon, ieri sera ero stanco morto dopo tutta la giornata in spiaggia e sono andato a dormire, a farmi un riposino. Mi sono addormentato prima di mezzanotte che fa un po' ridere dato che sono in vacanza. Comunque, ero stanco morto. Spero vi sia piaciuto questo video che ci ho messo abbastanza tanto tempo per editare tutto, specialmente il workout. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto, buttateci un like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Lasciatemi un commento facendomi sapere cosa ne avete pensato di questo video. Comunque, come avete visto, ancora non sono tanto informativi perché dato che sto con gli altri, faccio un po' più di vlog day in the life. Però, non appena abbiamo un attimo di pausa, farò dei video, i prossimi vlog saranno un pochino più informativi. Parlerò della mia nutrizione e del mio allenamento che sto seguendo e di quello che potete fare anche voi per continuare a vedere progressi anche in vacanza o almeno non disfare tutto il duro lavoro che avete fatto durante appunto il resto dell'anno. Detto questo, voglio concludere qui il video. Ci vediamo prestissimo ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un like, noi ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao ragazzi!